Buon lunedì cari telespettatori, che bello rincontrarvi. Oggi 27 giugno, mamma mia che caldo, ci sta proprio uccidendo. Beh, siamo in estate, è normale. Facciamo due saluti e poi mandiamo la pubblicità chiaramente. Salutiamo l'International Artist di Franco Mimmo Cattulè, un abbraccio al grande Franco, alla regia Damiano Conchieri, all'eriggio Thomas Lanzi. Noi andiamo in pubblicità e presentiamo l'ospite della giornata. Go hire, parrocchieri numero uno. Due saloni di bellezza, uno in via 25 Aprile 46 Barra A e l'altro in via Vittorio Maluere 40. La promozione estate in omaggio da giugno. Trattamento rinfrescante idratante alla mela e menta da martedì al giovedì. Luglio, trattamento protezione solare all'olio di Argan, sempre dal martedì al giovedì. Agosto, trattamento ricostruzione dopo sole alla creatina, sempre dal martedì al giovedì. Grandissima Olga. Bronze Club, una realtà bellissima che più di vent'anni si occupa di abbronzatura, estetica, e nelle estensioni cilia. Promozione estate, un straordinario trattamento per combattere gli inestetismi del corpo e viso. Un saluto alle Beauty Sisters della bellezza. Un saluto a Francesca Antonella. Medica Italia, una realtà ormai diventata punto di riferimento di Brescia 2, che si occupa di medicina estetica e specialistica e nutrizione annessa al dimagrimento, allo sport e ai dismetabolismi. Grazie al dottor Vito Traversa, naturalmente a Francesca Antonella. Queen, sulla strada padana rivoltana, a Iscate, una grande realtà dove c'è un'ottima cucina, un'ottima pizzeria, ma soprattutto il fine settimana, grande divertimento con il karaoke, le grandi emozioni della musica dal vivo. Un saluto prestigioso e grandissimo a Roberta e Elena. Pegaso Bar, una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour, dove si possono degustare un sacco di cose buone. E il fine settimana una pericena con grandi sorprese. Ciao Giancarlo! Auto demolizioni Ferrari, in via Grandi 5 a Pessano con Bornago, un'azienda molto seria dove potrai trovare ricambi nuovi ed usati di tutte le marche e in più da settembre puoi acquistare i ricambi che volete direttamente sul portale, comodamente da casa vostra. Ciao Stefano! Matchpoint a Caponago in via dell'Industria 4, una bellissima realtà immersa nel verde, aperto tutti i giorni dove il divertimento è assicurato. Un estivo bellissimo con giochi per bambini, da lunedì a venerdì a pranzo un'ottima cucina, il mercoledì alle 21.30 una birra media a soli 3 euro e tutte le sere pizza con forno a legna servita a lume di candela. Ciao Gigi! Se vuoi vendere e comprare, dal mercante devi andare. Dal grande Ennus esiste una realtà di modernariato e anticoariato dal 700 al 900. Oggettistica varia per la vostra casa, giardino e tempo libero. Il mercante di riscate ritira in conto vendita varie tipologie di articoli, di pregio ad esclusione di abbigliamento e piccola oggettistica. Se vuoi vendere e comprare dal mercante devi andare! Oh ben ritrovati cari telespettatori, che bello! Bene, oggi partiamo questo lunedì con una puntata molto molto originale. Perché originale? Vi spiego subito. Perché alla 122esima puntata della valigia degli artisti sono passati anche dei pittori, dei scultori. Oggi vogliamo partire proprio con un pittore che io ho ritenuto estremamente originale. Come originale voi direte? Certo, perché è il primo che si presenta con dei capolavori molto molto strani, molto particolari e originali e unici nel suo genere. Non esito tanto nel presentarvi il nostro grandissimo artista di nome Gasparetto Moreno! Buongiorno a tutti! Buongiorno, come stai caro? Una setta di mano, eh? Oh che bello rincontrarti, sono molto contento va! Anche perché come sapete avete dei spettatori la valigia degli artisti è aperta a 360 gradi per quello che concerne tutto quello che è l'arte, disciplina, atletica e quant'altro. Perciò a noi ci piace tutto, tutto, tutto. Bene, caro Moreno, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito la valigia degli artisti e tu come sai è una forma di 20 minuti dobbiamo spremere un po' il limone per far capire bene come funziona, diciamo, l'artista, la tua arte. Bene, io so per esempio che hai iniziato da giovanissimo, vuoi raccontarci, raccontati, raccontaci, racconta ai nostri telespettatori quando hai iniziato. Sì, in poche parole dall'età di 8-9 anni incominciavo con i primi lavori, i primi scarabocchi, chiamiamoli così, le matite, colori, incominciavo a copiare dei videogame dai fumetti, tutti questi soggetti, i vari protagonisti e da lì piano piano la pressione si è aumentata e un po' alla volta fino ad arrivare intorno all'età di 14 anni, di 13-14 anni e ho scelto l'indirizzo artistico per il mio futuro. Ho fatto l'istituto d'arte. E lì hai capito che questo era il tuo potenziale? Sì, la mia vita era quella insomma. Ecco, studiato dove? A 9, in pratica, l'istituto d'arte, Gide Fabris. Un corso che ho scelto è stato ceramico però poi diciamo che ho un po' lasciato lì perché il mio istinto mi portava verso l'olio su tela, verso i colori forti, i colori carichi e da lì ho intrapreso dopo la scuola il mio futuro, diciamo, da artista. Bene, dove hai studiato poi tra l'altro? So che hai fatto un altro studio, se non erro, vicino a casa tua, no? Sì, sì, sì. Ma hai detto, ecco, vuoi gentilmente farci capire? Sì, guarda, da poco mi sono iscritto anche alla scuola internazionale di comics qua a Padova, praticamente, e dopo lì, sì, a casa ho questo mio studio dove con il mio, diciamo, maestro, puoi dire anche mentore, e lì continuiamo a fare delle copie dal vero, continuiamo a studiare, a migliorarmi, insomma, ecco. Ti sei specializzato su cosa? In pratica, diciamo, la mia arte si è specializzata nel rielaborare il fisico umano, uomo o donna che sia, in forme solide, in qualche parola, molto colorate, molto forti, molto cariche. No, ma carichi telespettatori, la cosa che a me mi gasa un botto è che lui veramente fa delle cose estremamente belle, estremamente originali, perché tu prendi veramente quello che è, diciamo, l'essere umano, con un sentore, se vogliamo, medievale, è un soggetto futuristico, o sbaglio? Sì, un po' così, esatto, esatto. Ecco, ma queste cose da cosa nascono? Come mai ti è venuta questa ispirazione così estremamente singolare, ecco, se vogliamo essere pratici? Ah, diciamo, guardo un po' alle, come si può dire, alle avvenimenti che mi accadono nella mia vita o nella vita di tutti i giorni comune, da lì parto a elaborare con dei piccoli schizzi, e pian piano costruisco queste, chiamiamole figure solide e umane, se si può dire così, e da lì nasce proprio la vera e propria opera d'arte, prima a forma di schizzo e poi a forma di, diciamo, di tela, riporto tutto sulla tela. Certo, certo. Senti, so che hai fatto delle mostre, anche di un certo spessore. Se vuoi raccontarci gentilmente... Diciamo, ho girato un po' l'Italia con i vari concorsi, per esempio, tra un po' andrò a Genova, sempre nella collettiva, poi non da molto collaboro con due galleristi austriaci, e da lì è nata un po', diciamo, l'opportunità di andare a Vienna l'anno scorso, poi è già due anni che faccio la fiera di Innsbruck, e quest'anno ho in ballo, tra non molto, l'attezza lì di ottobre, sempre una fiera internazionale, che è a Nizza, e una a Strasburgo. Per quest'anno siamo arrivati fino a qua. Ci sta, è come se ci sta. Certo, certo. Anche perché adesso, cari tere spettatori, vi mettiamo il senso pratico del mio concetto che volevo esprimere prima. Adesso lo rendiamo proprio... lo facciamo capire proprio. Se gentilmente, caro Moreno, vuoi prendere una tela, una di queste due che hai sotto mano, e spiegarci un pochettino? Fai pure, prendila un attimino. Vediamo quella più grande. Sì, prendi quella più grande. Tanto rimangono lì, non ti preoccupare che lo posizionate bene. Ecco, guardate un po', cari tere spettatori, che idee che ha questo ragazzo. Facciamo un applauso, gentilmente. Ecco, una panoramica, se ci vuoi spiegare. Questa, secondo me, è una signora vestita a modello 800, se non erro. Sì, infatti il titolo è Serato di Gala. Serato di Gala. Questa signora, in pratica... Io amo molto la pittura, no? Non sembra, però a me piace molto. Poi l'olio su tela è il top, veramente. Bene, raccontaci un pochettino e come mai hai scelto, diciamo, di unire questa formula ottocentesca con un'immagine futuristica. Diciamo che nelle mie opere cerco di incastrare, o comunque fare emergere... Diciamo una panoramica, gentilmente. Grazie. ...la psicologia che ci sta dietro. Vediamo questa signora annoiata, che è di buona famiglia, abbastanza ricca, che adesso qui praticamente è, come si può dire, un ritaglio, mettiamola così, nel soggetto iniziale. Questa signora si vede che scende le scale, praticamente annoiata, mette in la tenda ed esce, entra in questa sala da ballo e in pratica, sì, sta a rappresentare la... Un po' la noia, un po'. Ma chi suonavano? I robot? No, scusami. Era una battitina un po' così. No, no, era un po'... Se Thomas Lanzi mi segue con un applauso, quando faccio le battutine, non sarebbe male, eh. Eh, così... Beh, comunque complimenti, complimenti, veramente. Questa è un'ottima... è un'ottima... un'ottima espressione che hai dato su questa tipologia di quadro, che non è niente male. Sì, sempre con il mio target. Eh, con il tuo target. Beh, possiamo vedere anche l'altra tela, gentilmente, che almeno così io non vorrei creare un danno, che poi le opere, mamma mia, devono essere sempre trattate come tali, eh. cioè con cautela, eh. Guardate un po'. Ecco, questa... Diamo a questa figura. Raccontaci un pochettino cos'è. Questa figura è sempre femminile, sempre elaborata con le forme solide, è presa, diciamo, da dietro, quasi, diciamo, colta di sorpresa. E vediamo, infatti, lo stupore nel viso della ragazza. Certo! Come se, diciamo, l'ospedatore fosse entrato in una stanza se lei si fosse, come dire, stupita di questa visita, insomma. Questo è il taglio del quadro. Ma è sempre ispirato comunque ai 700, 800. Sì, 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 vestiti su un po', richiamano un po', esatto. E come mai hai deciso di mettere il soggetto robotico su... È una cosa che ancora non riesco a collimare, ma forse questa è veramente la formula giusta per essere evidenziato dagli altri... Sì, è un mio, noi scelta, è un mio stile, è un mio... È un tuo stile, esatto. Senti, Max, sei veramente molto, molto bravo. Questo a noi ci piace molto. Bene, io poi, tra l'altro, so che tu hai delle altre... Hai una rivista che, secondo me, è Bastano News e ci fai vedere delle... Esatto. Delle altre opere che hai sviluppato, guarda, che sembra... È lì, guarda. Eccolo qua. Che è molto importante. Eccolo qua. Adesso non so se riusciamo a inquadrare, sì. Questo praticamente... Prova a guardare me, caro Damiano, la regia, gentilmente. È un piccolo insert che mi hanno fatto qualche mese fa su Bastano News. Guardate che roba. Cioè, qua abbiamo veramente... Sembra una sirena che sta pescando con un cesto di vimini, se vogliamo, robotica, sempre. Le due... La figura che abbiamo appena visto. La cosa che più mi ha affascinato, realmente, è questo Gesù Cristo. Se vedete, eccolo qua. Vedete qua dove c'è il dito? Un po' rielaborato. È un po' rielaborato. Ma sei straordinario. Grazie. Grazie. Sei straordinario, veramente. Senti, cosa... Cosa stai... Cosa stai lavorando, lo stato attuale? Beh, in questo momento qua seguo sempre il mio stile. In altri... per esempio, uno dei miei ultimi soggetti riguarda la maternità. Ah! Sì, sì, riguarda praticamente la fase, diciamo, di aspettare della signora che aspetta il bambino in questa fase in cui, sì, c'è questo desiderio. soggetto su profilo robotico. Esatto, esatto. Che grande, che grande. Quello è il mio stile, quel mio taglio. Allora, io mi auguro di poterti rinvitare poi a settembre magari con qualche nuovo lavoro. Volentieri, volentieri. E sarò ben lieto di avere la tua presenza. Andiamo in pubblicità. Go hire, parrucchieri numero uno. Due saloni di bellezza, uno in via 25 Aprile 46 Barra e l'altro in via Vittorio Manoeira 40. la promozione estate in omaggio da giugno trattamento rinfrescante idratante alla mela e menta da martedì al giovedì. Luglio trattamento protezione solare all'olio di argan sempre dal martedì al giovedì. Agosto trattamento ricostruzione dopo sole alla creatina sempre dal martedì al giovedì. Grandissima Olga! Bronze Club una realtà bellissima che più di vent'anni si occupa di abbronzatura estetica e nelle estensioni ciglia. Promozione estate un straordinario trattamento per combattere gli inestetismi del corpo e viso un saluto alle beauty sister della bellezza un saluto a Francesca Antonella Medica Italia una realtà ormai diventata punto di riferimento di Brescia 2 che si occupa di medicina estetica e specialistica e nutrizione annessa al dimagrivento allo sport e ai dismetabolismi grazie al dottor Vito Traversa naturalmente a Francesca e Antonella Queen sulla strada padana rivoltana ad Iscate una grande realtà dove c'è un'ottima cucina un'ottima pizzeria ma soprattutto il fine settimana grande divertimento con il karaoke e le grandi emozioni della musica dal vivo un saluto prestigioso e grandissimo a Roberta e Elena Pegaso Bar una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour dove si possono degustare un sacco di cose buone e il fine settimana una pericena con grandi sorprese ciao Giancarlo auto demolizioni Ferrari in via Grandi 5 a Pessano con Bornago un'azienda molto seria dove potrai trovare ricambi nuovi ed usati di tutte le marche e in più da settembre puoi acquistare i ricambi che volete direttamente sul portale comodamente da casa vostra ciao Stefano Matchpoint a Caponago in via dell'Industria 4 una bellissima realtà immersa nel verde aperto tutti i giorni dove il divertimento è assicurato un estivo bellissimo con giochi per bambini da lunedì a vero di a pranzo un'ottima cucina il mercoledì alle 21.30 una birra media a soli 3 euro e tutte le sere pizza con forno a legna servita a lume di candela ciao Gigi se vuoi vendere e comprare dal mercante devi andare dal grande Enius esiste una realtà di modernariato e anticoariato dal 700 al 900 oggettistica varia per la vostra casa giardino e tempo libero il mercante di riscate ritira in conto vendita varie tipologie di articoli di pregio ad esclusione di abbigliamento e piccola oggettistica se vuoi vendere e comprare dal mercante devi andare ma ben ritrovati da poter mandare da poter mandare eventualmente mandare qualcuno ti può contattare moreno gasparetto artist chiocciola punto com una cosa da leggere ok ok va bene comunque niente oggi è stata una puntata abbiamo iniziato questo lunedì come avete capito con la singolarità l'originalità la grande espressione astratta di questo grande personaggio di questo grande pittore innovativo futuristico moreno gasparetto grazie che dire allora volevo ricordarvi questa sera innanzitutto devo fare degli auguri col cuore con tutto il bene che ti voglio alla Maurizia Paradiso che sabato ha compiuto gli anni facciamoli un bel applauso ti voglio tanto bene ci vediamo un po' poco in questo periodo ci sentiamo anche poco ti chiedo scusa ma non è per colpa mia per impegni di lavoro sai che il mio bene la mia stima è il mio rispetto per te immenso per sempre volevo ricordarvi che stasera alle 23 vai in onda vizi privati con la grande stravaganza i grandi ospiti che ha questa grande artista che l'Italia ci ha regalato facciamo due ringraziamenti all'international artist di Franco Mimmo Catullè alla regia Damiano Conchieri alla regia audio Thomas Lanzi che dire passate una bellissima giornata oggi mangiate in grazia di Dio che domani è 12.45 vai in onda la valigia degli artisti ciao la valigia azuleta è quella di un lungo viaggio di un lungo viaggio che ti ha trovato un coraggio Grazie a tutti